Quindi, guarda che noi ci siamo due geni italiani, noi ci siamo due geni italiani, noi ci siamo due geni italiani, no perché noi ecco lo sappiamo diciamo, adesso Alessandro Volta ha inventato la pila, se non è Alessandro Volta, come li danni del telefono, pensate, guarda Alessandro Volta. Mami, mami. Uno, due! Buon Buen Iber 15! 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 Grazie a tutti.